Il Castello Inferiore, il Centro Sportivo di Pradipaldo, l'ex scuola materna di Vallonara, l'ecomuseo di Crosara, l'ex albergo San Luca. Sono alcune delle sedi individuate dal comune di Marostica per spostare i seggi elettorali. Quest'anno siamo riusciti e riusciremo a garantire ai circa più di 11.000 votanti di non andare a inficiare sui più di 1.500 studenti che frequentano le scuole demarosticense. Alcuni locali di proprietà parrocchiale sono stati bocciati dalla prefettura e in alcuni istituti ci saranno con accessi separati sia le sezioni elettorali che le elezioni scolastiche. Resta il problema di dover comunicare a tutti gli elettori la variazione. Da ieri sera è partita la campagna pubblicitaria per dare comunicazione dello spostamento dei seggi. In molti casi si tratta di strutture nei pressi dei seggi vecchi e quindi di facile accesso. Per altri seggi si trovano in alcuni plessi che rimangono gli stessi però con entrate differenti. Altre comunicazioni che però non hanno valore giuridico arriveranno tramite affissioni e nei giorni del voto alcuni incaricati daranno sul posto le indicazioni dello spostamento. Abbiamo fatto questo cambiamento appunto nella consapevolezza di poter notificare a tutte le persone il cambiamento di seggio. In queste ore e nei prossimi giorni verranno fatte tutte le dovute comunicazioni. Grazie mille!